Wow! Inaugurazione della rapide grande architetto pontificio palazzese Andrea Vici nella sua chiesa di Sant'Agata trovata miracolosamente aperta. Bellissima questa! Era il monastero delle Benedettine della famiglia della Rovere, Bianca Maria della Rovere, Hortensia della Rovere. Mamma mia! Eccolo qua! Bell'uomo eh! E noi palazzesi siamo così. Grande storia. Figlio del grande architetto Arcangelo che l'ha mandato a studiare dal Van Vitelli di cui fu il braccio destro nonché costruttore della Cappella Palatina della Regia di Caserta, cascata delle marmore, ma fece lavori anche qui a Palazzo. La pilota, la pilotona, per i mulini di palazzo, mamma che organo! Grazie! 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 Oh 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 Grazie a tutti